Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. È con estremo veramente piacere che oggi vi presento il nuovo gioco dell'Escape Studios, gioco di Antonio Ferrara, in questa edizione distribuita da Asmod Italia, ed è un gioco che, banale dirvelo, era uno dei più attesi, fino a che fu annunciata al tempo il Kickstarter e quant'altro, uno dei più attesi di quest'anno perché è fatto da Antonio Ferrara, che è un cultore, è una persona molto acculturata soprattutto del vecchio cinema horror old school e ha fatto giochi, board game spettacolari, non a caso, come a parte il presente Boogeyman, che come avrete già capito mi piace da morire, ma poi le considerazioni finali ve le do in fondo, anche perché c'è, secondo me, una piccola tirata ad orecchie, per quanto il titolo è praticamente perfetto, ha fatto altri giochi da tavolo molto noti, come ad esempio Tales of Evil e Last Friday. Il primo, praticamente intercambiabile con questo, infatti la figata, se avete Boogeyman e Tales of Evil, li potete giocare insieme, potete usare i bambini di questo in quello, o gli adolescenti di quell'altro in questo qui. Mentre invece Last Friday è quello ambientato a Campa Pash, che è una specie di Crystal Lake, ed è un gioco asimmetrico dove un gruppo vanno a giocare i sopravvissuti, o per meglio dire Camp Counselor, e quell'altro giocano il serial killer in stile Freddy Krueger o anche Jason Voorhees, che li deve uccidere tutti quanti. E ancora una volta si torna a parlare di un titolo horror, proprio dell'antico sapore veramente bellezza degli anni Ottanta, in stile Icunis, o se vogliamo anche il più recente Stranger Things. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Boogeyman, in questa edizione italiana, distribuita appunto a cura di Asmo d'Italia, che ringrazio appunto per la copia fornita, è un gioco dai 13 anni in su, perché ci possono giocare, è fatto apposta e pensato per i ragazzini, però ha un po' secondo me di idee, di meccaniche, che potrebbero essere leggermente ostiche, ecco, perlomeno un paio di giri vanno fatti. Forse un ragazzino di 10 anni ci si può mettere, uno un pochino più piccolo sarebbe, un pochino complicato, perché ha tante carte, ha un po' di meccaniche, non è difficile. Però diciamo, ha un po' di cose da vedere, eccoli per lì, da l'uno e sei giocatori, perché il bello si può giocare in tantissime modalità. Si può giocare in modalità cooperativa, in modalità semi-cooperativa, che ci può essere tipo Nemesis, ci può essere all'interno uno che potrebbe diventare il traditore, come ad esempio un altro gioco spettacolare che mi viene in mente, i trial, o se no si può giocare totalmente PvP, dove uno dei giocatori fa appunto il boogeyman, e la durata del gioco si appresta della partita sulla sessantina di minuti, sì, l'oretta, qualcosa del genere effettivamente ci sta, non è lunghissimo, troppo prolisso, però c'è da imparare un pochino le meccaniche. E la storia è molto carina, perché ci sono questi ragazzini, che nella notte di Halloween, va bene, un classico, si ritrovano appunto in questa casa, in questa villa di uno di loro, che è una magione immensa, qui qualcuno ha tantissimi soldi, e fra loro c'è Jennifer, la babysitter adolescente che è matta, è bruciata completamente di testa, e ovviamente i genitori non lo sanno, sono andati a fare fuori la festa, hanno lasciato i ragazzini con lei, e lei dopo, a una certa ora, li dovrà mettere a letto. Però in questa casa, ovviamente questa casa è infestata da una presenza molto antica, che è il Boogeyman. Il Boogeyman, vi ricordate, che è tradotto è l'uomo nero, è quello che vive all'interno dell'oscurità, è quello che vive all'interno degli armadi, quello pronto ad afferrarti da sotto il letto, come quando diceva il grande Stephen King, lasci fuori un piede, fuori dalla coperta, e paura che qualcosa te la afferri. Il Boogeyman ha quella presenza ancestrale, che è in tutte quelle case, dove appunto c'è una forte componente mistica, e paura dell'oscurità. E questa ragazzetta, questa Jennifer, ne è completamente invasata. Infatti il gioco ha delle meccaniche precise, perché voi, lo scopo principale del gioco, con questi ragazzini, è sopravvivere. Però a parte questo, dovete girare per le stanze della casa, ciascun giocatore ha tot azioni che può fare a seconda della sua sanità mentale, perché è bellino, questo gioco introduce la sanità mentale, che c'è normale, non impaurito, leggermente scosso e terrorizzato. Quando sarete terrorizzati, non potrete più usare le vostre scorte di dolcetti, che le scorte di dolcetti servono per fare azioni particolari o per dare un bonus all'azione corrente. E soprattutto, quando sarete terrorizzati, vi mancherà poco ad andare per terra. Meccanica molto carina, perché quando un personaggio viene abbattuto, o per meglio dire, qui non c'è il concetto di morte, però quando qualcuno sviene, il bambino che sviene, inizia a pescare dal mazzo degli incubi. E pescando dal mazzo degli incubi, sono incubi che vengono amplificati da questo boogie man e dalla casa, e sono incubi che diventano, si manifestano, diventano reali, e vanno a colpire tutti gli altri ragazzini all'interno della casa. Quindi, è pratica buona e comune, come usanza, che quando un personaggio finisce a terra svenuto, dovete andare subito a sprecare un'azione, correre per la casa, per andarla a svegliare. Perché sennò i suoi incubi diventeranno collettivi, e non verranno mai spenti, perché basta svegliarlo, e la carta dell'incubo viene scartata. Se non lo svegliate, rimane in gioco. Scopo del gioco è, stare attenti al boogie man, non incrociarlo, e stare attenti a Jennifer, la babysitter, semplicemente evitandoli sulla mappa. Però, il boogie man non si muove, il boogie man appare, in una stanza. Quindi, se vi trovate che appare in una stanza, dovete pescare dal mazzo boogie man, e sono cose negative, però il boogie man non attacca mai, quando siete in una stanza, con la luce illuminata, oppure quando siete più di una persona, attaccherà soltanto e sempre quando siete da soli. Quindi, quando il bambino è da solo, il boogie man attacca. Quando i bambini sono in due, non attacca. A meno di, carte, evento, che potrebbero dare, un risponso diverso. Jennifer, la babysitter, invece, al suo turno, si muove, di tot caselle, a seconda del rumore che sente, tipo Nemesis, verso il ragazzino, che l'ha causato, oppure a seconda di alcune carte evento, potrebbe esponarti direttamente in quella camera lì, apparirti in quella camera lì, e, ehm, dovete pescare dal mazzo di Jennifer, per vedere cosa succede. Quindi, ciò che dovete evitare, sono Jennifer, quindi, in personificazione corporea, e boogie man, che appare nell'oscurità, e nei momenti di tipo canzi. Se Jennifer e il boogie man, si trovano nella stessa stanza, e lei finisce il turno nella stessa stanza, viene posseduta dal boogie man, e li fa da tramite nel mondo reale, quindi lì, iniziano ad essere problemi. Altra meccanica, c'è, oltre alla sanità mentale, c'è un livello generale dello stress, che ogni volta che, magari qualcuno viene steso, o viene trovata la babysitter, o viene trovato il boogie man, questo stress generale sale, da una parte c'è lo stress, della, di Jennifer, della babysitter, dall'altra parte c'è lo stress del boogie man, e quando arrivano a certe tappe segnate, vengono pescate delle carte evento. La carte evento finisce alla fine del turno, però è attiva, ovviamente per tutti i giocatori. Scopo del gioco, trovare di solito tre oggetti, portarli nella stanza richiesta, ovviamente dal tipo di rito, o comunque cosa che bisogna fare, per annullare questa maledizione, e sconfiggere il boogie man, e la figata, che, quando arrivate a trovare gli oggetti, a fare il finale, c'è un libro, con, non vorrei dire una cavolata, ma 30, 40, ora tanto poi lo vedete, lo state vedendo nel corso del video, finali, che è un fumetto a colori, un fumetto a colori, colorato digitalmente, bellissimo, quindi avete, una trentina e più di finali, che non saranno mai gli stessi, e quando andate a finire, vedete, leggete tutto quanto, e magari nella vignetta c'è scritto, tirate un dado per vedere cosa succede, no, ci ha beccato il boogie man, tira un altro dado, riusciamo a scappare dalla porta, e a chiuderla, la casa è perduta, ma i bambini sono salvi, è una figata assurda, e dentro la scatola trovate, praticamente un fumetto, disegnato e colorato benissimo, e poi trovate un poster, loro in tutti i loro giochi, mettono sempre il poster, bellissimo, che noi li stiamo inquadrettando, poi vi faremo fare un tour, per tutta la casa, in conclusione, questo boogie man, a me, personalmente, a me, che è un parere mio personale, è piaciuto anche più di Tales of Evil, perché questo l'ho visto molto, che mi rimanda, a un gioco che io ho adorato, e qui arriva la tirata d'orecchie, che dicevo all'inizio, ma la tirata d'orecchie, buonare, perché sono felice, anche anzi, di questa cosa qui, la componentistica all'interno, è perfetta, le miniature sono poche, ma giuste, sono belline, molto divertenti, anche sicuramente da colorare, uno si può andare a sbizzarrire, poi il boogie man è veramente bella, l'avete visto nel corso del video, e l'unica tirata d'orecchie, che mi sento di fare, è che questo gioco, è la copia spudorata, sì, ampliate, c'è qualcosa di più, lo stress, diverse cosucce, però è la coppia spudorata, di un gioco, che io ad ore, non sono mai riuscito ad avere, ho tanti board game, ma quello mi manca, nemmeno comprandolo si trova, Camp Grizzly, Camp Grizzly, era un gioco ambientato, tipo anche di una specie di Crystal Lake, come Last Friday, dove bisognava scappare un gioco cooperativo, scappare da un serial killer, che ci rincoleva per il campo, ragazzi, non è uguale, però comunque, da 1 a 10, questo con Camp Grizzly è 8, veramente, le meccaniche di base sono quelle, e sono contento, perché finalmente c'è un Camp Grizzly, praticamente in casa, e secondo me è fatto anche meglio, perché quell'altro, aveva gli standi, non aveva neanche componentistica di miniature, e quant'altro, e il gioco, assolutamente, se adorate i giochi di Antonio Ferrari, e dell'Escape Studios, non vi può assolutamente mancare, e passerete una serata horror, degna dei Goonies, o di Stranger Things, se lo volete ordinare, come sempre, primo link in descrizione, in sovraimpressione, dalla gioco libreria Simola, non soltanto al miglior prezzo sul mercato, ma se andate in lista, sul sito, e non lo trovate, scrivete Boogeyman, e non c'è, oppure lo trovate, ma pallino rosso, ed è finito, scrivete al supporto, a Corrado, al proprietario, della gioco libreria Simola, e fate presente, che arrivate dal canale di Coridan, lui ve lo farà trovare, non soltanto al miglior prezzo sul mercato, ma usate il codice discount, Coridan 7, per avere uno sconto del 7%, anche su prodotti finiti, o fuori catalogo, e se superate la spesa, di 79 euro complessiva, su qualsiasi acquisto, anche penne e matite, dalla gioco libreria Simola, spedizioni postali, gratuite in tutta Europa, le ordinate 48 ore a casa, anche in Germania, va a riva, ovunque, e isole comprese, quindi gioco libreria Simola, come sempre, è per me, un servizio impeccabile, eccellente, e molto professionale, soprattutto, basso costo, e velocissimo, e andate direttamente, a vedere sul sito, io ringrazio ancora una volta, Asmod Italia, per la copia fornita, Antonio Ferrara, e compagnia al solito, hanno fatto, un bellissimo prodotto, e ragazzi, dovete averlo, assolutamente, a maggior ragione, amanti di Stranger Things, e come detto, anche di Goonies, e del Bon Cinema, anni 80, con cui siamo nati, e cresciuti, ciao ragazzi, alla prossima, se questo video ti è piaciuto, lascia un like, e clicca sulla campanella, per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche, e non perderti nemmeno, un video in uscita, primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre, di iscrivervi anche, al canale Facebook, al canale mio, di Live Twitch, alla mia pagina Instagram, e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate, e su Twitch, mano a mano, troverete la programmazione, aggiornata, con tutte quante le live, del giorno, quindi guardatela sempre, perché ci sarà sempre, la programmazione, aggiornata, mi raccomando, iscrivetevi, soprattutto ai social, perché sono sempre aggiornati, e se devo comunicare qualcosa, anche per il canale YouTube, lo troverete sempre lì, ciao, alla prossima!